Sì, io vengo qui per fare una scelta qui di me stesso, per vedere il film che arrivi a tigliare con la moto e così via. E io vengo a fare il film. Qui ha il dito che arrivi da Samarkand? No! Però se vengo già che il film si chiama Pocce Samarkand. Ho vivo morto e non ero nessuno. Sulle plazze 10 sentati o sulle moto, se sei morto vedi che non fanno alcun cosa devi fare così. Coglio! Ma tu te conti la tua storia? Conti tu da? Da fuori che è la storia che mi stavamo arrivando al carcere. Quindi tu te lo conti? No! No! E' questa roba si investe 10-23 anni, non ti tirare fuori. Io non ti leggo a metà strada e ti toglie, no? Guarda che ti toglie, eh! Prendi i buss, hai le scane che neanche non le senti. Non si può se là a morire, perché dove si fa il film? Tu mi dici cosa c'è fatto. Se vedi là in davanti, tornai da ora. Zagabrie, Belgrat, Sofia, Istanbul, Kavirsadut, Zira, Uzbekistan, Samarkand! Prima! Grazie a tutti.